Buongiorno a tutti e benvenuti. Allora, la cosa più importante che mi viene da dire questa mattina di campo, qui parliamo di campo, poi più avanti chiacchiereremo un po' di fine mercato. Parlando di campo, dopo aver visto Juventus-Bologna di ieri sera, capisco l'importanza e lo spessore della nostra vittoria di Bologna. Bologna, signora squadra ragazzi, e aver vinto a Bologna è una cosa grande, grande, grande che a noi è successa la prima giornata e di cui ci renderemo conto più avanti. Quindi, per carità, c'è sempre da migliorare e giustamente Stefano Pioli ha lavorato su qualche difetto nostro emerso a Bologna. Ma a Bologna, se ci sono state delle smagliature e dei dislivelli nostri nella fase difensiva, è perché Bologna gioca bene al pallone, e l'abbiamo visto ieri a Torino con l'Aventus. Quindi, ho letto in giro, ho sentito in giro, ma perché il Bologna non ha giocato così anche contro il Milan? Eh già, bella, bella domanda, bella domanda. Prova a pensarci. Non rispondo io, perché se no sarebbe propaganda aziendarista. Rispondi te, prova a pensarci. Come mai Bologna non ha giocato così bene anche contro il Milan? Come mai? Perché a calcio si gioca notoriamente da soli, no? Non si gioca in due. Però, è una battuta la mia, è una digressione scherzosa. Non facciamo nessun tipo di polemica perché non serve. Dice, eh ma il Bologna ha avuto tempo di studiare la Juventus anche a Udine. Sì, per carità, ma il calcio si studia tutto. E siccome il Milan di Monza è sceso in campo con la stessa formazione di Bologna, probabilmente, Tiago Motta, le immagini di Monza-Milan, che si era giocata 13-14 giorni prima, se le sarà belle viste. No, io credo che, credo che per carità, giusto sempre migliorare, ma credo che a Bologna, io avevo avuto la sensazione della squadra forte in Bologna. Però sai, se lo dico io, diventa, diventa un'esaltazione a suma a paragone al Bologna-Real Madrid. No, l'avevo visto già bene, Zirze. Poi, per carità, Russolini ha avuto una settimana di allenamenti in più, però quando è entrato nel secondo tempo fresco, Ndoie mi era piaciuto subito. Quindi, quando si diceva Ndoie contro Calabria nel finale di partita, ragazzi, guardate Ndoie, Ndoie è forte. Ci sta che possa esserci qualche difficoltà da parte di qualche noto difensore su Ndoie. Quindi, la prima cosa che mi viene in mente è che vittoria che abbiamo fatto a Bologna. Ecco, questo mi viene in mente. Poi, sapete, in Juventus-Bologna sono successe un po' di cose, insomma. Alla Juventus è stato annullato un rigore, ma, sapete, sul fuorigioco me lo dite voi. Io mi ribello ogni tanto ai millimetri in fuorigioco, ma ieri era, Rabiot era in fuorigioco, la sua posizione è stata giudicata attiva, appunto. Quindi, non è un gol annullato. Lì è stata una decisione oggettiva, semplicemente applicata. Poteva esserci un rigore vero per la Juventus nel primo tempo su Chiesa, però è chiaro che l'Italia discute di quell'episodio Ndoie-Hilling, che in quel momento della partita è stato evidentemente un macroepisodio. Però, e qui vengo a noi, non entro nel merito di Juventus-Bologna, e non partecipo al dibattito, ho notato che, ad esempio, nelle espressioni di Bergonzi, ieri sera, la domenica sportiva, c'era più carica, quasi più, non voglio dire Astio, la faccia come dire, ma guarda cosa hanno fatto, più per Milan-Torino che per Juventus-Bologna, che per l'episodio Juventus-Bologna, che è grossa, che è grossa, ragazzi, perché ho visto che dopo Milan-Torino, l'ho visto coi miei occhi, l'ho seguito con attenzione, con rispetto e in silenzio per tutto il giro interviste, Ivan Ivovich, dopo Milan-Torino, ha parlato della partita, non ha parlato di episodi arbitrali, ha parlato della partita dicendo non c'è stata partita, Milan troppo superiore, Milan un'altra cosa rispetto a noi, non è stato lì a guardare il capello. L'avevo visto anch'io in telecronaca, che la mano di Buongiorno su Giroud era ravvicinata rispetto al tentativo di spizzata di Giroud, per carità, l'ho visto anch'io questo, però la mano è lunga e aperta, ragazzi, e rispetto al corpo, il braccio è bello esteso, quindi poteva dare rigore, poteva non darlo, il fatto, quando siamo di fronte a una situazione del genere, non è uno scandalo darlo, non è uno scandalo non darlo, non capisco perché si faccia uno scandalo perché il rigore sia stato dato. Ora, a una certa lettura arbitrale dei Milan-Torino, dopo la partita, sono un po' abituato, sono un po' abituato, sono un po' abituato, però che l'episodio del rigore del 2-1 del Milan, in una partita in cui Milan, in cui praticamente il Torino ha fatto un tiro in porta, quello del gol, e in cui il Milan ha dominato, dare più spazio all'episodio di Milan-Torino, che a quello di Juventus-Bologna, dove non me ne voglio Allegri, ma se c'è una squadra che ha giocato calcio, ieri a Torino è stato al Bologna, la Juventus nel primo tempo non ha mai tirato in porta, nel secondo tempo ha fatto un po' di palla in area, di impeto, di carattere, di pancia, ma a pallone ci ha giocato il Bologna, ieri, con tutto rispetto, non entro nel merito delle cose della Juventus, però una partita chiara e limpida, come quella di Milan-Torino, che si vada a calcare, si vada a dare più righe, all'episodio del rigore di Giroud, del 2-1, piuttosto che all'episodio di Juventus-Bologna, sul quale capisco che il rigore di Chiesa nel primo tempo secondo me era rigore, però mi sembra grossa, che si dia più spazio a una cosa piuttosto che all'altra, mi sembra veramente grossa. Ieri sentivo addirittura Gianfranco Teotino su Radio Sportiva invocare una sorta di jury d'appello europeo, una revisione del regolamento internazionale del calcio perché anche il rigore su Leao non poteva essere dato, perché Leao prende fallo, ha rischiato di infortunarsi, si è fatto male, è uscito, però aveva già dato la palla. Aveva già dato la palla. Di solito quando succede a nostro sfavore mi dicono eh ma comunque per il fallo non sarebbe più potuto rientrare nell'azione, però ho sentito che anche il rigore, perché quando danno i rigori al Milan ragazzi, quando danno i rigori al Milan, passa in secondo piano qualsiasi cosa, addirittura bisogna chiamare subito l'IFAB per cambiare il regolamento, l'International Ball per cambiare il regolamento internazionale del calcio. Inviterei tutti a stare calmi, il Milan ha vinto contro il Torino perché ha meritato di vincere, e il campo mi sembra che abbia parlato in maniera molto chiara, ma non solo il campo e non solo Suma, lo ha detto Ivan Juric, è probabile che Ivan Juric lo abbia detto perché voleva essere autocritico sulla sua squadra, perché magari si aspettava un po' di più dal mercato, per carità del cielo, però il saluto dopo la partita in zona mista fra Pioli e Juric è stato molto bello e i complimenti di Juric al Milan erano sinceri. Quando Juric dice noi l'anno scorso questo Milan l'abbiamo battuto due volte meritatamente, in Coppa Italia l'ha andata in campionato, dice la verità, e quindi quando dice che il Milan di quest'anno è un'altra cosa, fa un altro sport rispetto a quello del Torino, penso che dica, siccome è nello stesso stato d'animo, nello stesso post partita, penso che dica la verità. E non è che si può poi ribaltare quello che dice Juric andando a sminuzzare gli episodi, ho scoperto addirittura che Maric Ciau doveva essere espulso, va bene, va bene. Ci vediamo dopo, parliamo di mercato, ciao.